ciao e benvenuti in questa nuova pratica yoga iniziamo utilizzando un olio per il viso questo è l'olio alla lavanda di garnier bio ne prendo qualche goccia e lo scaldo tra le mani comincio ad applicarlo sul viso con dei movimenti leggeri ma facendo la giusta pressione iniziamo con il massaggio linfatico drenante in questo modo portiamo le tossine al di fuori del nostro corpo ora sono massaggiando le clavicole questo utilissimo per drenare i liquidi in eccesso non solo dal viso ma da tutto il corpo ora iniziamo a massaggiare la fronte con questo movimento in cui le stiriamo letteralmente le rughe orizzontali così invece rilassiamo le eleven lines dobbiamo pizzicare le sopracciglia lungo tutta la loro arcata continuiamo con il massaggio linfatico per il contorno degli occhi usando l'anulare in questo modo la pressione deve essere leggerissima come se voi toccaste un foglio di carta velina ora esercitiamo un pochino le palpebre superiori con le dita a v cerchiamo di fare questo esercizio in cui sbattiamo velocemente le palpebre continuiamo a massaggiare liftando il viso dal centro verso l'esterno fatelo quante volte volete e ora con le dita delle mani a v massaggiamo le labbra e poi le passiamo lungo tutta la linea mandibolare questi sono esercizi di lifting e di relax allo stesso tempo ora ci dedichiamo un pochino al collo mi raccomando fate attenzione con gli esercizi del collo a non toccare la tiroide esercizio molto potente questo è per allenare la parte bassa del viso il lifting della mandibola con le dita ad uncino il pollice l'indice ad uncino cerchiamo di tirare la pelle verso l'alto questo è un esercizio che senza l'olio non si può fare lo facciamo anche sotto lo zigomo con la stessa tecnica qui potete anche insistere fare un pochino più di forza fate un massaggio sufficientemente energetico e ora liftiamo verso l'alto le guance cercando proprio di sfidare la forza di gravità con il palmo delle mani da una parte e poi dall'altra cercate di volervi bene mentre fate questi massaggi a voi stessi immaginate come se vi stesse stesse facendo delle carezze e ora con i palmi delle mani portiamo su portiamole su lungo tutto tutto il viso tiriamo proprio verso l'alto liftiamo tutto con un movimento lento questo è un massaggio che serve anche a sciogliere le tensioni accomunate durante la giornata e io vi consiglio di farlo alla sera ma volendo lo potreste anche fare la mattina è indifferente io amo fare queste cose alla sera magari dopo la doccia serale in questo caso avevo anche lavato i capelli e ora ripetiamo qualche esercizio di drenaggio con le dita delle mani andiamo a sfiorare dietro le orecchie che sono dei punti molto molto importanti ora ripetete con me alcune frasi di affermazione io sono una persona meravigliosa ripetilo a te stesso o a te stessa tutte le volte che vuoi tutte le volte in cui ne hai bisogno ma ripetilo sempre alla fine di ogni pratica io mi voglio bene io sono bellissima io sono meravigliosa